Ciao a tutti sono Bomf777 e benvenuti in questo video che è un po' diverso ma non so neanche cosa sia Ma perché questo video? Perché io qualche giorno fa ho registrato insieme a Dandy e ad Andrea di Noi Malati di Foot Una partita dove il perdente avrebbe dovuto scartare una leggenda Ecco, io ho perso e lo dico per quelli che stanno guardando adesso oppure vengono dal suo canale a vedere Però c'è stato un problema perché il Game Capture praticamente non ha registrato Cioè ha registrato però si vede tutto verde, tutto a scatti Quindi è infattibile fare un video con quella registrazione purtroppo Io quindi vi dico due cose Allora la prima è che, la prima è di andare a vedere il video sul suo canale perché c'è tutto Sarà con il suo commento, sarà con la sua, non so se, no lui la facecam non l'ha messa Però vabbè è sul suo canale, vi lascio il link qua sotto del video del canale quindi andatelo a vedere lì E la seconda è che io la parte, lo spezzone dove scarto la leggenda ce l'ho Quindi adesso ve lo faccio vedere Scusate se è un video così cortissimo, tutte queste robe qui Però è stata colpa mia perché, anche se involontariamente colpa mia è stata Però io gli ho fatto buttare tempo a lui, lui il video l'ha montato, ha fatto tutto Quindi andatelo a vedere sul suo canale E adesso allora passiamo alla parte dove scarto la leggenda E quindi Rip De Boer, ciao, ciao Che comunque vi dico 25.000, quasi 26.000 Alla fine vi ho perso più o meno la metà E quindi, io sono una merda Ho trovato un avversario fortissimo Complimento a lui, una squadra veramente forte Poi lui è bravo Passate la sua pagina, passate dal canale Ok, fatto, avete visto la leggenda scartata E cosa devo dire? Basta Io ho già chiesto scusa a lui Non era assolutamente fatto apposta Anzi, potete vedere chiaramente il video sul suo canale Però se volete io poi ve lo carico Però a meno che non volete perdere il 90% delle diottrie per vedere un mio video Vabbè, quindi Questo è stato un video così, ho scartato una leggenda a caso Praticamente direte voi No, è collegato comunque all'altro video Vai, andate qua sotto di commenti Bonf, sei uno scemo Che non sa neanche registrare Me li prenderò tutti E se il video vi è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenta da Bonf 777 è tutto Ciao a tutti